Fedez o J-Ax? Dai! J-Ax è un mio carissimo amico Da anni, Fedez ho fatto appena pace una rapina una rapina perché ha il più ricco dei due è una bella gara lì tu sai chi è però allora dovrebbe essere J-Ax per la carriera però penso che Fedez negli ultimi anni abbia fatturato ha fatturato parecchi soldi Fedez 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 dormi sonni